Dottor Di Florio, vogliamo tracciare un bilancio di questi due anni alla guida della Procura di Vasto. Quali le inchieste più rilevanti e i reati più rilevanti riscontrati? Guardi, il bilancio è sicuramente positivo, nel senso che dall'esame dei dati statistici che a me personalmente non piacciono, ma su cui molti fanno i conti, vi è stato un aumento di reati cosiddetti di criminalità comune, in particolar modo reati predatori, furti, rapine, rapine che però sono salite di livello perché si è passato da rapine con taglierini, siringhe fino ad arrivare all'uso di armi. Bilancio positivo perché? Perché questo ufficio non è stato mai organico pieno e tutto sommato riusciamo a far fronte quasi in tempo reale al carico che è sempre più pressante. Vorrei anche aggiungere che nel frattempo non ho mai congelato i ruoli dei colleghi che sono andati via, sono stati trasferiti in altri uffici e quindi cerchiamo di stare al passo con le notizie di reato. Ovviamente c'è qualcosa che richiede una maggiore attenzione rispetto ad altro. Quali reati che destano maggiore allarme dal punto di vista sociale, quindi nella popolazione? Secondo l'ultimo sondaggio, il convegno che abbiamo fatto per parlare di sicurezza e di legalità, come sapete l'idea è sempre quella, cioè il cittadino si sente colpito da quei reati contro il patrimonio che lo aggrediscono direttamente. C'è una tensione minore per quei fatti che secondo me sono importantissimi, che incidono molto anche sul rapporto delle istituzioni e che riguardano i reati della pubblica amministrazione, dove devo dire per la verità ci sono più iscrizioni rispetto agli anni passati, ma vi è meno attenzione anche chi magari dovrebbe raccontarci qualcosa, è spesso chiuso in questa omertà che non si giustifica. Ecco, riguardo alle infiltrazioni della criminalità organizzata c'è un rapporto della DIA che è stato rimesso al Parlamento in cui parla di infiltrazioni dell'Andrangheta nel Vastese e anche nel vicino Molise, è preoccupante questo? Ma è preoccupante nel senso che noi siamo un territorio a rischio, perché confiniamo con regioni che hanno a che fare con la criminalità organizzata, perché quel tipo di criminalità organizzata cerca altri territori su cui espandere la loro attività, perché sono organizzazioni che hanno disponibilità di capitali leciti che possono reimpiegare nel tessuto economico, legale e che quindi alterano le regole del mercato. Ho detto che non bisogna creare allarmismi, lo sapevamo, lo sappiamo, ma è altrettanto vero che non bisogna abbassare la guardia. Certo, se potessimo contare con forze di polizia, in termini di numeri o comunque la possibilità di avere gente esperta su determinate tipologie di reato, il lavoro sarebbe più semplice.